Premetto sette brevissimi punti schematici per spiegare perché io non sono per niente sorpreso e perché pensavo che la crisi non arrivasse due mesi prima delle elezioni, le famose storie, pensioni, vitalizze, no. Allora, primo punto, ho sempre pensato dopo il voto dell'ultimo voto politico che abbiamo alle spalle, che è un Parlamento nel quale i 5 Stelle avevano più del 32% sia Camera che è il Senato, è in cui la Lega di Salvini aveva 17-4, 17-6, cioè più del 50%, erano solo questi due partiti, cioè la grande espressione del voto populista italiano, nelle due apici, nei due punti, nei due pilastri fondamentali del populismo, a destra e a sinistra, nasceva sotto questo segno e moriva sotto questo segno, perché la forza che hanno il Parlamento è questa. E il consenso che hanno ottenuto tra gli italiani, che poi Salvini portò fino a raddoppiare la legislatura nei primi due anni, indicava la fine della legislatura, perché i due populismi erano contrapposti, erano concorrenti e questo avrebbe macinato qualunque altre posizioni politiche. Io l'ho sempre pensato. Uno, due. Secondo punto, questa valutazione non è stata fatta dai due partiti che hanno scelto nella legislatura primaria di Draghi di considerare Conte l'alleato strategico per cambiare l'Italia. Nel Conte I la Lega, nel Conte II il PD. Entrambi convinti che il Conte populista, che difese il populismo nel suo primo discorso della seduce al Parlamento, non poteva mai diventare Conte europeista e occidentalista, è convinti dal punto di vista del PD che l'aveva detto ma non contava, perché tanto sarebbe diventato un'altra cosa. Dimentichi del fatto che se uno dice A e poi dice B, potrà dire qualunque altra cosa. Entrambi i partiti hanno commesso un errore strategico, innanzitutto a danno di se stessi. Questo è il punto vero della faccenda. E ne hanno tirato di fila. Terzo punto, non dimenticate che cosa Conte e i 5 Stelle hanno pensato della fine del governo Conte II. Dopo che avevano disinvoltamente dismesso l'abito di alleati di Salvini e l'abito che teneva gli occhi chiusi sui diritti di immigrati, tutte le foglie di Salvini, l'interno per poi diventare sociali, europeisti e occidentalisti. Conte non ha mai, e i 5 Stelle intorno a lui, più di lui, che sono più espliciti di lui, non hanno mai nascosto, se vi sfogliate i giornali 2-8 febbraio 2021, prima di nascere il governo Draghi, troverete che Salvini dice, all'ipotesi della crisi di governo Conte, che Effe dice, ma lui dice testamente, io tra Draghi e gli italiani scelgo gli italiani, con le solite cose che dice lui, cioè quale Draghi? Mai. E Salvini fino all'ultimo secondo dirà, è molto difficile per i 5 Stelle che io possa guidare i 5 Stelle a votare Draghi. Questo è l'attitudine con cui Conte, Salvini, dimenticavano se non per un secondo, con cui Conte ha vissuto l'avvento del governo Draghi. Perché? Perché i 5 Stelle e Conte sono sempre stati convinti che la fine del Conte 2 è stata dovuta a un golpe di palazzo. A Renzi, che d'accordo con grandi poteri, si è inventato ciò che fece cadere il Conte 2. Perché poi Renzi è stato, come Renzi ha fortemente voluto il Conte 2, a differenza di Calenda, e che continua a rinfacciarselo, è un errore da una parte e dall'altra, però questi sono fatti così, non so cosa farci. Perché Renzi dice, meglio Conte 2 che andare alle elezioni allora, perché sarebbe stato travolgente. Calenda dice, no, tu hai scelto Calenda e devi metterti in ginocchio. Resta il fatto che per Conte 5 Stelle è sempre stato un golpe di palazzo, la fine del Conte 2 e dopo il Conte 1. Non è mai cambiata questa cosa. Ben prima che l'era governista dei 5 Stelle si scoprisse più filo occidentalista del Segretario Generale della Nato. Ecco, questa roba qui era fatta per macerare e come tutte le cose che vanno in macerazione, poi se tu le chiudi esplodono perché producono gas, questo come sa qualunque distillatore di alcol, che è uno dei mestieri che mi piace più perché ha a che vedere con la vecchia cosa alchemica del Medioevo, però le cose elementari. Questo è il terzo punto. Quarto punto, l'unità nazionale. Mattarella ha fin dal primo giorno detto a Draghi tu devi dire che questo è un governo di unità nazionale. Questo è stato un governo di unità nazionale? Il posto. No. No. Non c'è stata nessuna grande intesa programmatica comune formalizzata tra i partiti alla sua nascita. C'era un'emergenza quando nacque il governo Draghi che ne ha contraddistinto i primi mesi. Uno dei motivi per cui il governo Conte in difficoltà per gli scontri interni rischiava di farci andare nell'angolo a livello europeo era il fatto che il suo PNRR, che doveva essere pronto il 21 settembre, 28 ottobre, 29 gennaio, erano arrivati a febbraio ed era caro amico. Cioè, le sei missioni più o c'erano scritte. C'era anche una premessa, ma la premessa era inguardabile. Mancavano i milestones, mancavano tutti i criteri perché l'Unione Europea potesse accettarli. Non c'era alcuna visione generale di ciò che doveva unire alle riforme strutturali, non era mai citata la parola concorrenza, non era mai citata la parola produttività. Buono Draghi nacque fondamentalmente per questo. I partiti in cerchi su cosa fare disse, riscrivi tu la premessa, non le sei missioni purtroppo che sono cambiate troppo poco e infatti questa è una fonte di guai, come scopriamo ora che siamo in fase attuativa, però Draghi lo fece bene, benissimo. E lì si incardinò questo che però è un mito. Non è mai stato un governo di vita nazionale. Cioè, Lega e PD, 5 Stelle e PD hanno avuto in comune l'idea di allearsi alla fine della legislatura, ma gli altri partiti, tra di loro, non hanno mai condiviso un'ispirazione che non fosse PNRR iniziale. Quindi mi dispiace, io capisco la formula mattarella, però il governo di vita nazionale, l'unico precedente che poi non riuscì, ma era prossimo a riuscire prima che le Brigate Rosse uccisero il giorno stesso in cui si votava la fiducia in Parlamento, anzi sequestrarono e l'ho uccisero dopo Aldo Moro, nasceva da una grande convergenza tra due grandi partiti popolari che erano divisi da tutto fino a quel momento, ma erano convinti che di fronte al morso del terrorismo e dell'inflazione occorresse convergere davvero. Questa roba non c'è mai stata. Mi dispiace, capisco la generosa intenzione del Quirinale e il fatto che Draghi abbia dovuto adottare questa formula, però anch'essa era minata dall'interno dal fatto che una convergenza vera non, ripeto, c'era e non c'è mai. È stata nei primi mesi del governo Draghi, quarto punto, è stata oscurata dal PNRR, è stata oscurata prima della guerra russa, dell'ongasione russa dall'Ucraina, è successo che in Europa Draghi ha ottenuto, in effetti, perché l'autorevolezza dei Draghi, il fatto che gli Stati Uniti riconoscessero Draghi come leader, che la Yellen riconoscesse Draghi come leader, eccetera, eccetera, era come leader europeo di prima fila, e questo ha un po' ammutolito i partiti. Ma, ma, gli errori sono cominciati nello scorso ottobre, e qui c'è una responsabilità dell'inner circle di Draghi, c'è, perché quando nello scorso ottobre l'idea portiamo Draghi al Quirinale, allora la cosa migliore è assecondando al Quirinale, diamo retta a Mattarella, coinvolgiamo di più i partiti, anzi diciamo che in legge finanziaria tutta la parte fiscale la decidono solo i partiti e non il governo, lì è stato un errore clamoroso, perché una volta che tu apri l'oltre di euro dei venti, i venti non rimetti più dentro dei partiti populisti, tanto più quando rischiano di perdere molti voti nelle prossime elezioni. Lì è accaduto e da quel momento non solo Draghi non è andato al Quirinale, i partiti l'hanno presa come una cosa di debolezza, oltretutto hanno detto ah, vuoi andare al Quirinale e tenti di indorarci la pillola, noi ci ingoviamo la pillola, grazie, e poi noi te le daremo, noi le daremo al tempo sul Quirinale, non ci vai. Questo è quello che è successo all'inizio dell'anno, non dimentichiamoci, perché anche questo è un presupposto che ha scatenato poi le divergenze. Ogni partito ha iniziato a chiedere cose sempre più pesanti. Draghi ha provato cinque volte in Parlamento di modificare il super bonus prima che esplodesse il casino delle frodi, per cinque volte in Parlamento tutti i partiti gli hanno detto no, tutti, destra e sinistra. Quando si è trattato di far scadere quota 100, Draghi non ha avuto la forza perché doveva dare retta ai partiti a quel punto, di dire torniamo la fornero con qualche minimo adattamento, abbiamo fatto quota 102, altri miliardi per pensionare. È continuata la cosa dei bonus, anche di fronte al morso del caro energia dopo la guerra russa, noi abbiamo adottato il bonus 200 euro per 39,5 milioni di italiani, noi disperdiamo decine di miliardi, non su 10 milioni di italiani che stanno peggio, li disperdiamo in maniera tale che soddisfiamo molti elettori, uno, due, ma polarizziamo sempre più la società italiana perché aggradiamo i problemi di quelli che stanno peggio, ogni volta giovani, donne, titolari di contratto a tempo determinato, poveri, incapienti, siamo riusciti a raddoppiare la spesa pubblica e sociale a carico della fiscalità generale, cioè non finanziata da contributi previdenziali o contributi sanitari, l'abbiamo raddoppiata e abbiamo raddoppiato l'uno dei poveri, un primato, in nessun paese avanzato, ha totalizzato in questi anni, di forte polarizzazione non solo in Italia. Vengo al penultimo punto, non è un caso che quando poi, dopo la cessione di Di Maio, dopo la reazione dei Contiani, dopo la cosa di essere convinto che c'è un altro colpe di palazzo perché la cosa di Di Maio l'ha provocato Draghi, ci deve chiedere scusa, ci deve dare un segnale, eccetera. Quando però Conte, stretto dai suoi, dice, va bene, architettiamo questa cosa per cui noi non votiamo la fiducia al decreto aiuti, però naturalmente non facciamo cadere il governo. Salvini immediatamente si riallinea e dice, non si può fare il governo senza, se loro si ritirano io non ci sto dentro a perdere voti, visto che perdo voto rispetto alla Meloni. Quindi si va a votare. Come vedete la legislatura inizia in un modo ma finisce nello stesso modo, sono entrambi allineati, totalmente ignari di qualunque elementare dovere istituzionale, internazionale, di quello che l'Italia e nel frattempo con Draghi ha chiesto, aprendo un dibattito su un nuovo scudo a difesa sostanzialmente del debito italiano da parte della BCH, di un nuovo fondo di debito europeo che serve ad assisterci nella transizione sia da gas a gas, ma soprattutto a difendere le nostre file industriali che sono più esposte ai morsi dell'accelerazione degli obiettivi del 55. Niente, se ne fottono niente, ma si ritrovano insieme in questa posizione. Vado all'ultimo punto. Draghi è stato convinto sempre a dire pochi giorni fa una frase che quando l'ho letta ho detto ti c'impiccano su questa frase. Cioè la frase senza Conte non c'è più il governo. L'illusione di essere in linea con il culinale di chi ha consigliato intorno a Draghi questa frase era quella di dire questo è il segnale che diamo a Conte e così Conte si rabbonisce. Errore. Perché una volta che tu dici questo il potere di Riccardo dei 5 Stelle è salito in maniera apicale. Cioè si convincono davvero che loro possono non votare la fiducia del decreto aiuti e non aprire la crisi di governo e continuare a quel punto a rompere le scatole sempre di più. Non solo su un inceneritore. Questi avevano chiesto la finanziamento del superbonus quando il superbonus va rivisto dal fondamentale perché è diventato la principale leva della crescita italiana dimenticandosi tutto il resto e anche perché perdonatemi una roba che fa valorare così tanto i valori dei beni immobiliari e su cui i proprietari non ci mettono un euro neanche di garanzia è una roba che non si è mai vista in nessun'altra parte del mondo. Certo gli elettori saranno molto grati la finanza pubblica lo è meno e anche dal punto di vista dell'etica tributaria non ho più i capelli ma insomma a me viene da popolare. Ecco loro avevano chiesto il rifinanziamento anche di questo. Salvini aveva già chiesto che si faccia quota 41 di prepensionamenti e così via. Non mi fate continuare. Però come vedete non prendere sul serio il trionfo del populismo all'inizio della legislatura credendo che fossero abolito. Quanti cazzo di articoli abbiamo letto dicendo che il populismo era finito perché c'era Draghi. Dove è finito il populismo? Dove? Questi hanno celebrato le elezioni francesi. Questi sono felici che il governo Schultz. Il governo Schultz è attraversato da una crisi profonda molto diversa dalla nostra ma sono molto divisi rispetto alle risposte da dare a Carmichia all'inflazione. Perché Verdi e una parte del PD vogliono rimettere a mano i pacchetti Hars 2003-2005 che hanno rimesso la Germania in piedi. Linder non vuole e così via. Non la faccio lunga ma il populismo in Italia non è mai finito. Non è mai finito ma non tanto perché la Lega ha fatto Conte 1 perché il PD ha creduto di poterlo addomesticare e adesso si trova a non sapere più cosa dire. All'ultimo secondo ha creduto di far dire ai suoi amici intorno a Draghi tu dili che senza Conte il governo non si fa Conte si rabbonisce. Dove? Come poteva rabbonirsi? Una volta che gli dici che il master del governo è l'avvocato Giuseppe Conte. Perché dovrebbe rabbonirsi. Perdonatemi.